A pochi giorni dalla conclusione della 58esima mostra della ceramica di Castellamonte, che chiuderà i battenti domenica 2 settembre dopo 16 giorni di grande affluenza, prende la parola il sindaco Pasquale Mazza per fare il punto sull'edizione di quest'anno. L'anno scorso e quest'anno abbiamo deciso, continueremo così, di tenere la mostra aperta anche durante la settimana, quindi teremo aperti tutti i punti espositivi. Su questo hanno fatto un grosso lavoro le associazioni della città che ringrazio, l'ufficio cultura della città che ringrazio e il mio consigliere delegato Claudio Betaz che sta lavorando molto bene. In primo piano la novità assoluta di Ceramics in Love, il concorso aperto agli artisti della ceramica di tutto il mondo che ha visto la partecipazione di 125 ceramisti con ben 140 opere, tutte esposte in due delle sedi della mostra. Palazzo Botton, che da quest'anno ospita il Museo Permanente della Ceramica, e il Centro Congressi Piero Martinetti. Le altre location sono il liceo artistico Felice Faccio, il Cantiere delle Arti, la Casa Museo Famiglia All'Aira, e il Centro Ceramico Fornace Pagliero. Oltre all'esposizione artistica, la consueta esposizione artigianale al Centro Martinetti, con in prima fila le celibri stufe di Castellamonte, che coniugano tradizione e innovazione, presentando nuovi design accanto alle intramontabili fogge che tutti conosciamo. Oltre a queste cose, noi abbiamo organizzato le visite ai castelletti famosi di Sant'Anna Boschi, quindi tutte le domeniche c'è una navetta che porta i turisti su a visitare questi castelletti, abbiamo tutte le nostre botteghe degli artigiani aperti, perché comunque c'è una certa vitalità anche dal punto di vista artigianale. Invitiamo tutti i cittadini a venire il prossimo fine settimana, perché ci saranno una serie di manifestazioni anche collaterali. Ci sarà una festa dove ci sarà sabato sera il concerto dei Divina, domenica ci sarà la chiusura della mostra, dove durante il giorno si potrà degustare tutti i piatti tipici della città, per le vie del centro, e domenica sera c'è la manifestazione di chiusura con il concerto di una pianista, Alessandra Rosso. Oltre ai sei punti espositivi, Castellamonte regala al pubblico dei visitatori diverse installazioni permanenti, come l'arco in cielo di Arnaldo Pomodoro, la torre di Babele di Silvio Vigliaturo e il monumento alla stufa di Ugo Nespolo.